Eccoci qua, ciao a tutti, bentornate, bentornati, se siete già stati sul mio canale avete messo commenti, vi siete iscritti, avete messo like, io vi ringrazio di cuore il canale, vedo che sta crescendo, questa cosa ovviamente mi riempie di gioia. Io purtroppo, purtroppo per fortuna, lavorando mi devo ridurre la sera a fare gli interattivi quando posso, quando non crollo dalla stanchezza, quindi l'illuminazione è quella che è, voi non avete idea del backstage che c'è dietro un video, perché la luce naturale sicuramente è molto meglio rispetto alla luce artificiale, però insomma mi sembra tutto abbastanza visibile. Poi ovviamente, sapete, io avvicino le carte, ve le faccio guardare, perché è una cosa che secondo me è molto importante. Quindi dicevo, bentornate, bentornati, se siete già tra le persone che mi seguono, se invece sei nuovo o nuova e capiti qui per la prima volta, io mi presento, sono Rossana, questo è I Tarocchi in Valigia, che è un mio progettino partito da poco. E con l'interattivo di oggi vorrei provare a fare la domanda, è davvero finita tra di noi o c'è ancora una possibilità per noi due? Io oggi vi farei scegliere proprio il mazzo, perché secondo me anche un aspetto importante degli interattivi è anche questo, scegliere il mazzo che si vuole usare. Quindi, vi ho messo qui tre varianti, questa è la variante 1, che poi identifico con questa pietra nera, ok? Variante 1, questo mazzo. Variante 2, questo mazzo, che secondo me molti conoscete, pietrina verde. Variante 3, quest'altro mazzo, con questa bella pietra arancione. Quindi, tagliamo corto, ormai lo sapete, non devo dirvi niente di più, diciamo. Concentratevi un bel respirone, pensate a questa persona. Io ovviamente mi riferisco a situazioni finite da poco. Poco si può parlare di mesi, non certo di anni. Quindi una situazione che si è conclusa relativamente da poco, ok? Fate un bel respirone, pensate a questa persona e scegliete il mazzo che più vi ispira. Metto il video in pausa e comincio con la prima variante. Eccoci qua, variante 1, con questa bella pietrina nera. Il fumo che vedete non sono io che sto andando a fuoco, ma è l'incenso. Forse è un po' esagerato stasera, va bene. Allora, variante 1, concentriamoci. Cosa sta succedendo? Cerchiamo di indagare se è davvero finita fra di voi o se ci sono ancora delle possibilità. Io comincerei con questi oracoli. Iniziamo a vedere. Voi sapete che io adoro questi oracoli. Sono molto... Perché essendo interattivi, qua bisogna cercare di trovare più dettagli possibili, in modo che voi capite se è la vostra variante. Ovviamente sapete che se non vi ritrovate, non fatevi andare bene per forza la stesa. Provate a guardare le altre varianti, altrimenti per oggi Emma non c'è un messaggio per voi. Ma, ripeto, ho intenzione di fare molti video su questa linea. Allora, variante numero 1. Tu che hai scelto questo fantastico mazzo di una ragazza italiana meravigliosa che se li hai creati e prodotti da sola, adesso li vedremo anche insieme, sono di una bellezza. Si chiamano i Tarocchi Disturbanti, ha una pagina Instagram. Allora, variante numero 1. Concentriamoci. Intanto vediamo che energie ci sono attualmente fra voi due. Per inquadrare. Che energie ci sono? Perché ho scelto la variante numero 1 e la persona a cui stanno pensando. Girare in tondo. Sapete che io prima vorrei mettere giù tutte le carte per avere un quadro, però questa prima energia mi dice appunto che probabilmente è una situazione che per molto tempo si è avuto le stesse dinamiche, no? E' come se si dovesse sempre ricominciare da capo in un certo senso. Che il problema magari principale si riproponeva a fasi alterne. Girare in tondo. Che poi è anche come appunto una spirale, no? Quindi continuare probabilmente a girare intorno allo stesso problema, non riuscire a trovare una soluzione. Però voglio dire che poi un'apertura a questa spirale ce l'ha. Quindi girare in tondo. Vediamo un po'. Conoscio, guardiamo le vostre energie, le sue energie della persona a cui state pensando e le energie generali fra voi due. Vediamo un po'. Variante 1. In che energia sei tu in questo momento? Variante 1. In che energia sei? Compromesso. E' un po' come se tu ti fossi fatto andare bene sempre qualcosa, diciamo così. Che per far funzionare questa relazione hai dovuto probabilmente digerire un po' di cose. Andiamo avanti. L'altra persona. In che energia è l'altra persona? Perché ha scelto la variante 1 e la persona a cui stanno pensando. In che energia è? Intensità. Probabilmente questa è invece una persona che è molto passionale, molto irruente, magari ha tratti irruente, diciamo così. Una persona che si faceva notare nella vostra relazione, che magari prendeva decisioni, che magari imponeva la sua. Una nuova visione. Queste possono essere le energie fra voi due, ma è voluta volare anche questa. Confronto. Qui le carte vogliono volare. Probabilmente sono intense come lui. O come lei. Come quest'altra persona. Bella energica. Allora, dalle prime carte. E' come se. Questa situazione probabilmente è andata avanti allo stesso modo, con la stessa dinamica per un bel po' di tempo. Tu finché hai potuto, hai cercato di trovare un compromesso. In questa situazione hai cercato di far andare bene le cose, più che hai potuto. Questa persona invece probabilmente era sempre molto più... Mi dà proprio la sensazione di essere una persona molto impulsiva, nel bene e nel male. Quindi è una persona che magari andava e veniva nella tua vita. Entrava, usciva un po' in base ai suoi impulsi, ai suoi istinti. E quindi tu per un bel po' ti sei fatta andare bene questa situazione. Sicuramente per amore. Perché provavi qualcosa per questa persona. Però a un certo punto in effetti l'energia fra di voi è un appeso e... E' come se fosse un cinque di spade. Quindi io vedo che qui hanno iniziato veramente a saltare fuori un po' le discussioni. Probabilmente tu hai cominciato anche un po' a ribellarti. Probabilmente tu hai cominciato a dire la tua. Nel senso a... Hai cominciato a fare un po' tipo dei paragoni, no? Io mi comporto così perché tu ti comporti in questo modo. Io faccio questa cosa per te, ma è possibile che tu invece non riesci a capire... Non mi vieni mai incontro, non cambi mai il tuo punto di vista sulla situazione. Insomma, inizio a vedere che ci sono stati ultimamente un po' di litigi. Probabilmente perché tu hai cominciato un po' a ribellarti. Cioè non sei più rimasta lì ad accettare questo compromesso. Ok? Probabilmente hai cominciato un po' ad alzare la testa. Nel momento in cui l'hai fatto, ecco che probabilmente è scoppiato un po' i conflitti. Sono iniziati un po' i conflitti. Perché sennò questa situazione sarebbe andata avanti così in eterno. Con lui che entrava e usciva dalla tua vita, che ti dimostrava periodi appassionati e sei l'unica persona della mia vita, a periodi in cui invece magari spariva. Era freddo. Quindi tu probabilmente ultimamente hai iniziato ad alzare un po' la testa, a dire un po' la tua, a dire sai che c'è a me, sembra che in questa relazione io sei quella che bene o male accetta un po' tutte le cose, però vedo che da parte tua... E lì sono cominciati i litigi. Vorrei vedere anche però... Io poi vado anche molto a istinto. Vorrei vedere un po' che cosa ci vogliono dire anche gli angeli del cuore. Che energia c'è adesso? Tra la persona che ha scelto la variante numero uno e la persona a cui stanno pensando. Allora, pensa con ottimismo alla tua vita amorosa. E ce ne vuole, eh? Pensare positivo e avere fiducia ti porteranno all'amore. Tu qui secondo me ne hai avuto tanta di ottimismo, cioè di positività. Secondo me qui ci hai provato veramente in tutti i modi a far andare bene questa situazione. Hai sempre cercato di trovare... Forse l'hai anche giustificato molte volte, mi viene da dire. Proprio perché di indole eri così ottimista rispetto a questa situazione, no? Ho la sensazione che ultimamente ti sei un po' ribellata. E da qui, chissà come mai, sono iniziati i conflitti. Però approfondiamo un attimo con i tarocchi che hai scelto tu, eh? Questo è il mazzo che tu hai scelto, variante uno. Questa storia è davvero finita? O c'è ancora una possibilità per voi due? Perché ha scelto la variante uno. Questa storia è davvero finita? O c'è ancora una possibilità per chi ha scelto la variante uno e la persona a cui stanno pensando. C'è ancora una possibilità o è davvero finita? Allora. Cinque di bastoni. La papessa nera. Allora, questa, io ve l'ho detto che questo è un mazzo meraviglioso. Questa è una carta extra, voluta da questa ragazza che ha creato questo mazzo. La papessa nera è la carta dell'introspezione, proprio, del ritrovare se stessi. Quindi, secondo me, c'è stato un momento in cui tu, che hai scelto questa variante, hai iniziato a guardarti veramente dentro e a farti delle domande. Probabilmente hai iniziato a sentire che questa relazione non stava andando come veramente desideri. E qui sono iniziati magari anche i conflitti, non solo con te stessa, ma anche ovviamente con questa persona. Probabilmente il cinque di bastoni, a parte i conflitti a livello proprio istintivo, passionale, perché qui c'è anche molta gelosia, può esserci stato veramente anche una discussione a causa di una gelosia o delle intromissioni di qualcuno nella vostra relazione. E tu hai cominciato veramente comunque a fare un percorso. Forse questa nuova visione è la tua. E' come se tu a un certo punto abbia cominciato a farti delle domande, a guardarti nel profondo e a dire ma veramente è questo quello che voglio? Veramente voglio continuare a girare in tondo e a rincorrere un po' questa persona che sicuramente ha energie molto più dinamiche rispetto a te, ma dinamiche nel bene e nel male. E' come se tu costantemente dovessi stare dietro a questa persona, ai suoi umori, ai suoi problemi, alle sue cose. Adesso è arrivato un momento in cui invece ti sei fermata un attimo e hai cominciato a guardare dentro di te. Questo dal taglio. E da lì sono magari cominciati i problemi. Infatti qua c'è stata una rottura anche abbastanza potente. Allora qui abbiamo imperatore, sei di coppe, la torre, sette di bastoni, il bagatto, fante di denari, energia di fondomazzo, appunto abbiamo il 5 di bastoni e qui ancora il 3 di denari. Allora, variante 1, che cosa è successo qui? Intanto l'energia di fondomazzo, 5 di bastoni, appunto come dicevo, qui probabilmente gli scontri sono iniziati proprio perché ho la forte sensazione che tu abbia iniziato un pochino a ribellarti. Cioè se fino ad oggi, fino adesso, sei sempre stata una persona mite che cercava sempre di giustificarlo, di comprenderlo, di pensare con ottimismo appunto a questa relazione, secondo me a furia di girare in tondo e di non vedere forse i risultati che speravi, hai iniziato ad alzare la testa, come ho detto, no? E quindi hai iniziato un attimo a tirar fuori quella parte forse un po' che avevi un po' soffocato, ma per amore della relazione, probabilmente. Secondo me questa è una storia che non è una storia recente, è una storia che comunque è andata avanti per un bel po', perché questo sedicoppe mi dice che comunque avete dei ricordi da condividere, avete una situazione di lungo tempo. Se non è così, probabilmente è perché, se magari lo conosci da poco, è perché avete avvertito entrambi la forte sensazione di ritrovarvi l'uno nell'altro. Però questo girare in tondo mi dice che secondo me è una situazione che è andata avanti per tanto tempo, e quindi avete costruito nel bene e nel male una serie di ricordi belli insieme. Comunque, credo che le discussioni siano nate proprio perché tu abbia cominciato a vedere le cose da un altro punto di vista, abbia cominciato a fare un po' dei paragoni tra quello che dai tu e quello che dava lui, e abbia cominciato ad alzare un po' il problema, tra virgolette, no? Cioè, abbia cominciato a dire, sai che c'è, io non mi sento più tanto felice in questa situazione. E lui che cosa ha fatto, giustamente? Lui adesso è in questa energia dell'imperatore, di chi dice, io sinceramente penso di aver fatto tutto nel modo migliore. Io sono una persona, ci ho sempre detto le cose come stanno, ci ho sempre detto come sono, mi sono sempre mostrato per quello che sono, sono sempre stato così, com'è possibile che adesso non ti vada più bene? Lui mi dà molto questa, l'altra persona mi dà molto la sensazione di avere questo tipo di energia qua, di essere una persona molto sicura di sé innanzitutto, di una persona, probabilmente, allora, il lato positivo, come ogni carta, abbiamo un lato positivo e un lato negativo. Sicuramente questa è una persona, mi viene da dire un segno di fuoco, un bel segno di terra, bello proprio fuoco. Questa è una persona che, quando è in buona, sicuramente è uno di quelli che ti fa sentire al sicuro, ti fa sentire donna, ti fa sentire protetta, è uno che prende in mano la situazione, è una persona che non è un ragazzino, non è infantile nelle sue cose, però il lato negativo è l'eccesso, quindi l'eccesso di corsette di bastoni mi fa proprio pensare che è una persona che comunque, come tu magari gli facevi notare anche solo piccole cose, lui si metteva subito sulla difensiva o lei, si metteva subito, alzava subito una barriera, come per dire, guarda, è così, si fa come dico io, io la penso così molto, vedi, guarda questo cubo, che proprio chiude la sua testa, è una persona così, chiusa, che difficilmente si apriva a guardare le cose da un altro punto di vista, e secondo me tutte queste cose hanno cominciato a creare attriti fra di voi, infatti qui la torre mi dice che, qui non voglio escludere che probabilmente ci sia stato un litigio anche bello forte, bello intenso, è come se tu all'improvviso fossi esplosa, che magari da una piccola cosa che è successa, banalmente una gelosia, a un qualcosa che ti ha fatto completamente esplodere, questa torre mi dice che la chiusura è stata, non è stata una chiusura decisa a tavolino, come posso dire, è stata una chiusura, un litigio, io vedo, ho forte la sensazione che qui ci sia stato un forte litigio, proprio perché è come se all'improvviso uno di voi due, e sono quasi convinta che sia tu, sei esplosa. O ancora un'altra versione, che in realtà la gelosia era giustificata, è saltato fuori un qualcosa, che ti ha fatto proprio discutere in modo intenso. Allora, se davvero questa storia è finita, io qui non vedo una fine, io qui vedo che c'è la possibilità di far ripartire questa relazione, anche perché quest'imperatore, comunque sia, con questo sei di coppe, mi dice che ha nostalgia, ha nostalgia della vostra relazione, e in centro stesa abbiamo il sei di coppe e il mago, quindi è una persona che sicuramente ha intenzione di far ripartire questa relazione. Con il fante di denari, probabilmente farà un piccolissimo gesto, che non sarà un gesto romantico, perché comunque l'energia di questa persona è sempre questa, sarà un gesto, probabilmente userà una scusa, un'occasione, non lo so se avete qualcosa in comune, banalmente troverà una qualsiasi scusa per fare un primo passo verso di voi, questa storia non è chiusa, assolutamente. Io vedo che questa persona ha voglia di far ripartire questa relazione. L'unica cosa che non so quanto lui abbia capito i suoi errori, o comunque abbia capito quello che ti crea disagio, diciamo così, è una persona che assolutamente non ha intenzione, non la vede chiusa questa storia, però sempre probabilmente ha le sue condizioni. Vedo comunque una persona inquadrata, ecco, non vedo pentimento, anzi vedo qualcuno che comunque mantiene la sua posizione, però assolutamente ha voglia di far ripartire questa relazione. Allora, vediamo un po', chiediamo ancora possibili sviluppi. No, per questa persona non è chiusa la relazione, solo che, ripeto, ha il suo carattere, con questo fante di denari, sì, mi dice che, mi evidenzia il fatto che lui cercherà una scusa, un modo per avvicinarsi di nuovo a voi. vediamo con che intenzioni, dai, facciamo questa domanda. No, beh, la sua di denari è fare ancora l'idea proprio di far ripartire. con quali intenzioni questa persona si avvicinerà a chi ha scelto la variante numero uno? Con quali intenzioni questa persona si avvicinerà a chi ha scelto la variante numero uno? Con quali intenzioni? 6 di denari il carro Allora, sì, confermo che questa persona ha assolutamente tutte le intenzioni di far ripartire questa cosa, però vi dico che le energie di questa persona non sono molto cambiate, perché 6 di denari e 8 di spade, sempre il discorso dare e avere, è un, con questo 8 di spade, è un po' come se lui proprio, non fosse proprio nella sua indole questa cosa di essere empatico nei confronti dell'altra persona, questo 8 di spade e questo re di coppe sotto il carro, mi dicono che è una persona che non riesce molto a equilibrare i suoi sentimenti, come posso spiegarmi? Io avverto veramente un'energia di una persona molto concreta, quello sicuro, molto concreta, ma anche molto tosta, ok? Una persona che comunque non scende a compromessi, ecco, non scende a compromessi come avete fatto voi fino adesso, voi sì, lui no, è una cosa che non rientra proprio nella sua visuale della vita, è una persona che dice o bianco o nero, non ci sono via di mezzo, quindi, questa è una persona che ha tutte le intenzioni di riconquistarvi, nel senso di, no, ecco, neanche riconquistarvi, di venire verso di voi per riprendervi, ok? Ma sempre ed esclusivamente alle sue condizioni. Come ha fatto fino adesso, mi viene da dire? con questa intensità io avevo già intuito che questa è una persona che fa un po' il bello e il cattivo tempo, se voi mi chiedete se questa persona ha sentimenti, allora, io onestamente coppe non ne vedo, ok? C'è questo re di coppe, ma è completamente sommerso da concretezza, quindi materialismo, razionalità, da da un carattere il carro, il carro è una carta di avanzamento, ma è anche una carta che se non è dosata bene ti travolge, quindi questa è l'energia che mi viene da questa persona, di una persona che quando parte, perché ha deciso di partire, parte e travolge tutto quello che trova, non si pone la domanda come può reagire l'altra persona, come può stare l'altra persona questo mio, se io faccio questa cosa, non se la pone proprio, lui parte, ha deciso, parte, così farà con voi ancora e ancora e ancora, questo girare in tondo sarà sempre così, perché questa è così, è una persona così, è una persona che con questo nove di bastoni alza delle barriere, comunque sia c'è una parte di lui che non vedrete mai, ed è la sua parte più intima ed emotiva, ma è una cosa che lui tiene molto molto protetta, difesa, non fa entrare, non fa entrare le persone nel suo cuore, anche quella papessa nera lì, è una persona che non fino, non vi farà mai entrare completamente nella sua anima, ok? Sicuramente passionale, sicuramente concreta, sicuramente tutto quello che volete, ma se voi cercate emozioni, se voi cercate qualcos'altro, visto che ultimamente ve lo siete chiesti, da questa persona non la trovate, lui o lei vi può dare solo questo tipo di rapporto, quindi un rapporto in cui comunque è sempre lui da avere il controllo, lui o lei, il controllo su tutto, sulla situazione, su quello che fate voi, su, probabilmente anche su 5 di bastoni, magari è pure lui una persona, o lei, una persona molto gelosa, perché vuole avere tutto sotto controllo, alle sue condizioni, quindi alla domanda è finita o c'è davvero un'altra possibilità, no, non è finita, perché questa persona ha deciso che non è finita, l'ha deciso questa persona, quindi come probabilmente è già successo che vi siete separati, ma questa persona è sempre tornata, ma torna sempre con la stessa dinamica, cioè con questa energia qui del so come prenderti, so come farti cadere, so come metterti, come posso dire, senza essere, questa è una persona che sa i punti che deve toccare con voi, però secondo me voi ultimamente vi state facendo delle domande diverse e piano piano probabilmente vi troverete anche la risposta, quindi rimanendo appunto alla domanda, no, non è finita, per questa persona ma non ci pensa proprio, non è finita, lei o lui vuole avere però il controllo, quindi con questo osso di bastoni farà in modo di far ripartire questa situazione, magari anche mettendola anche molto sul col suo carisma, no, ci siamo capiti, è una persona che probabilmente sa quali punti toccare in voi e lo farà ancora, poi sta a voi, sta a voi decidere se chiudere questo girare in tondo, quindi trovare la via d'uscita o se continuare con questa dinamica, va bene, variante 1, io direi che queste carte mi hanno detto tutto, vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto, se il video vi è piaciuto mettetemi like, commentate, fatemi sapere, se questo imperatore esiste davvero nella vostra vita e se avrete ancora la pazienza di far ripartire la storia, io vi ringrazio e vi aspetto al prossimo video, ciao, un bacio. Eccoci, ciao variante 2, bentornata, bentornato, se sei già tra i miei iscritti o tra le persone che comunque hanno già visto i miei video, bentrovata o bentrovato invece se sei nuovo e passi di qui per caso. Questa è la tua variante, pietrina verde ma soprattutto questo mazzo. Allora, iniziamo a vedere se è davvero finita fra di voi o se c'è una possibilità ancora fra voi due. Iniziamo a vedere con che energie ci troviamo in questo momento così puoi capire se è la tua variante o se vuoi vedere magari le altre due o altrimenti come sai significa che non c'è un messaggio per te stasera. Farò altri video tranquilla, quindi se non ti ritrovi faremo altri video sicuramente sull'argomento. Che energia c'è per chi ha scelto questa variante e soprattutto questo mazzo? Che energie ci sono in questo momento tra chi ha scelto la variante 1 e la persona che stanno pensando? A dire il vero come sai a me piaccio stendere prima tutte le carte per avere un quadro generale però già questa carta mi dice sembrerebbe che qui qualcuno uno di voi due dica sai che non è proprio come dici tu c'è qualcosa che non mi torna vogliamo un po' indaghiamo in che energia sei tu che hai scelto la variante numero 1 in questo momento rispetto a questa situazione variante numero 1 in che energia sei tu? eccoti qua come sei tu sei un po' confusa un po' allo sbando non sai benissimo come come muoverti o forse questo a dire il vero significa che hai scoperto qualcosa o qualcosa ti ha un attimo destabilizzato di questa persona andiamo avanti che energia è la persona a cui stanno pensando quelli che hanno scelto la variante numero 1 eccolo qua eulala queste sono volute volare allora questa personcina non sta benissimo io vedo afflizione esaurimento è come se questa persona fosse arrivata a un punto di non ritorno e è come se adesso si fosse pentito di aver fatto qualcosa vediamo l'energia fra voi due l'energia di chi ha scelto la variante 1 e la persona a cui stanno pensando che energie ci sono fra loro due volgersi all'interno ci sono energie di silenzio chiaro se siete qua ci sono energie di chiusura di silenzio proprio mi viene da dire c'è qualcuno di voi due o tutte e due insomma vi state prendendo una pausa questo non è altro che un 4 di coppe come se vi foste chiusi entrambi all'idea appunto di poter trovare una soluzione a questa a questa situazione a questa relazione mi viene da dire tu sei completamente in balia di te stesso te stessa tu sei confusa è come se fosse successo un qualcosa che ti ha molto destabilizzato è probabilmente un qualcosa che ha fatto quest'altra persona perché al momento si sente in questo in questo stato non sta benissimo qua ci sono sensi di colpa ci sono preoccupazioni è come se questa persona si fosse resa conto di aver fatto una cosa grave vediamo un po' ancora cosa vogliono dirci gli angeli del cuore indaghiamo che energie ci sono tra chi ha scelto la variante numero uno allora relazioni delle vite passate vi siete conosciuti in passato questo può voler dire tante cose sta carta o che è una relazione veramente di lungo di lunga data e che probabilmente era arrivata in un momento di stagnazione molto pesante e però questa persona abbia fatto un qualcosa che vi ha che magari non vi ha detto e che voi avete scoperto e quindi adesso voi siete nell'energia di chi dice vorrei sapere la verità vorrei che tu mi dicessi la verità oppure relazioni delle vite passate probabilmente è la forte connessione che c'è fra voi due o che c'è stata fin dall'inizio ancora non ho tempistiche di quanto questa storia possa essere stata lunga però però io direi che è come come se voi aveste scoperto un qualcosa e non ci vedete chiaro ecco magari avete chiesto spiegazioni a questa persona questa persona si è messa sulla difensiva ma sa di non essersi comportata benissimo andiamo andiamo a chiedere vediamo se le carte ci dicono qualcosa di più allora vediamo un po' è davvero finita? perché ha scelto la variante numero uno e la persona a cui stanno pensando è davvero finita? questa relazione è davvero finita? 5 di spade era di bastoni qui ci sono stati scontri discussioni litigi per orgoglio presa di posizione vi siete forse feriti anche con le parole vedo forte forti contrasti vediamo un po' allora variante 2 che situazione abbiamo qua? con l'energia del 5 di spade appunto mi conferma mi confermano litigi scontri verbalmente molto pesanti secondo me vi siete proprio fatti male con le parole vedo probabilmente si era arrivati a un punto in cui la relazione faceva questo effetto qua cioè è come continuare a discutere sulle stesse cose non riuscire a trovare più un punto di contatto la stesa mi apre con un otto di spade allora io qui ho forte la sensazione che questa persona improvvisamente sia cambiata ma profondamente quindi voi avete iniziato veramente a vedere un forte cambiamento di questa persona senza riuscire a capirne il motivo questa persona ha cominciato a chiudersi moltissimo in se stesso ha cominciato a non parlarvi più a non farvi entrare più nella loro nella loro testa è come se avesse iniziato a mettere una gabbia intorno a sé vedo vedo forte questa questa chiusura perché ha cominciato un percorso probabilmente dentro di sé molto profondo e non vi ha messi al corrente di questa sua di questa sua questo suo stato di infelicità mi viene proprio da dire questa parola quindi abbia solo cominciato ad avere atteggiamenti sempre più strani ai vostri occhi molto strani cioè è come se questa persona da un giorno con l'altro avete guardato questa persona e non la riconosceste più mi viene fortissima questa sensazione e che quindi vi abbia completamente destabilizzato non vi dava più modo di non lo riconoscete più ecco credo proprio che ultimamente la sensazione che voi avete avuto è stata questa di non riconoscere più l'altra persona qui credo anche che si sia insinuata una terza persona ma in realtà non è stato proprio il problema scatenante probabilmente è stato l'input che ha portato a questa persona a cambiare completamente nei vostri confronti se non c'è stata l'intromissione di una terza persona altra di coppe mi dice che può essere che questa persona abbia avuto una leggerezza la persona a cui state pensando che sia caduto in una leggerezza se così non fosse è come se si fosse perso veramente l'entusiasmo fra voi due ma soprattutto la complicità a me viene molto forte questo cambiamento questa trasformazione che ha avuto questa persona che da un giorno con l'altro voi non non l'abbiate più riconosciuto ma perché probabilmente questa persona è stata anche sopraffatta molto da dalla vita in generale quotidiana di tutti i giorni si è trovato ad essere appesantito da molte cose al di fuori anche dalla vostra relazione questa potrebbe essere anche una versione lo vedo proprio affaticato cioè io vedo questa persona molto affaticata ultimamente e ha riversato tutta questa frustrazione probabilmente nella vostra storia il problema è che appunto anziché magari parlarne con voi si è chiuso sempre di più in una in una sua gabbia fino a portarvi a a urlarvi addosso e non parlarvi più non so come spiegarvi allora se questa vediamo un po' proviamo a chiedere se è finita qui o se c'è ancora qualche possibilità fra voi due io però qui si così da come energie vedo sicuramente lui non sta benissimo lui o lei la persona a cui state pensando non sta bene ma a questo punto penso che sia proprio un momento suo molto difficile perché qualcosa è profondamente cambiato dentro di lui si è un po' perso e quindi ha cambiato completamente atteggiamento nei vostri confronti e voi vi siete sentite così cioè con questo a dire il vero è come se vi chiedeste ma che cosa è successo cioè cos'è successo cosa non è possibile cioè eri così adesso sei cos'è successo mi dà proprio questa sensazione così vediamo un po' se c'è ancora una possibilità fra voi due perché ho scelto la variante numero uno questa storia può ripartire vediamo un po' questa storia ripartirà allora al momento onestamente queste carte mi dicono che c'è sicuramente ancora una forte dipendenza l'uno dall'altro c'è ancora un forte richiamo fra di voi ma qui c'è un problema molto molto importante nel senso che allora il 9 di denari seguito dal 10 di bastoni in questa quartina qua è come se mi volessero dire che questa persona sta cercando il suo equilibrio personale in questo momento non riesce più a è proprio perso ecco mi viene da dire questa cosa questa è una persona che si è messa molto sulla difensiva che ha cominciato a mettere tantissimi paletti nei vostri confronti ma è perché si è sentito probabilmente molto appesantito dalle responsabilità anche questo due di denari me lo diceva è come se all'improvviso questa persona fosse stata travolta da troppe troppe responsabilità nella vostra relazione e avesse perso il focus del suo stato psicofisico il nove di denari di solito è una carta che parla appunto di volersi bene di prendersi cura di sé si perde completamente in mezzo a tutte queste carte di pesantezza di sacrificio di chiusura poi con l'afflizione pensieri negativi ansie paure è come se questa persona improvvisamente si sia proprio ritirata in sé stesso e quindi al momento vedo una forte chiusura perché si è sentito molto sacrificato ultimamente in questa relazione il problema è che secondo me non ve ne ha proprio parlato è come se improvvisamente abbia messo un muro altissimo sempre più alto giorno dopo giorno e magari più voi cercavate di capirlo più questa persona si chiudeva riccio è una persona che non ha saputo comunicare con voi ma che si è tenuto tutto dentro e il risultato poi è stato questo quindi io al momento onestamente variante di due non non mi sento di dirvi che questa storia riprenderà ma perché questa persona è come se fosse arrivata a un limite esagerato ok e quindi in questo momento stia solo cercando di pensare al suo benessere a ritrovare il suo equilibrio è qualcuno che adesso è molto chiuso molto chiuso perché appesantito ma secondo me anche da cose esterne alla vostra relazione banalmente il lavoro la vita quotidiana le responsabilità vedo vedo qualcuno che in questo momento in alcuni piccolissimi casi può esserci la tentazione di una terza persona che abbia messo veramente in moto tutto questo ragionamento però non è come posso dirvi non è la causa principale può essere stata la scintilla che ha messo questa persona a farsi delle domande ma non è il problema principale se ci fosse una terza persona che si è insinuata qui proprio il problema era dentro di lui e non ve l'ha assolutamente esternato è come se da un giorno con l'altro voi non aveste più riconosciuto questa persona io per adesso vi dico che non potete fare niente se non lasciare che faccia il suo corso che lui ritrovi un attimo il suo baricentro perché in questo momento qualsiasi cosa voi fate si creano solo ulteriori discussioni ulteriori allontanamenti in questo momento penso che la cosa più saggia da fare sia lasciarlo nella nel suo nella sua ricerca interiore rivolgersi all'interno è una persona che in questo momento è molto apatica nei confronti della relazione delle relazioni in generale mi viene da dire è una persona che non vuole responsabilità adesso è stanco proprio perché ha avuto forse troppe responsabilità avrebbe bisogno di leggerezza e di trovare un attimo di nuovo il suo baricentro va bene variante 2 queste carte mi hanno detto tutto spero di avervi più che altro aperto come dico io sempre un cassettino sono energie ovviamente momentanee non sono energie in eterno però sì questa persona sta facendo una trasformazione profonda dentro di sé e voi penso che in questo momento davvero non possiate fare nulla se non rispettare questo suo percorso e probabilmente magari pensare anche voi al vostro è l'unica cosa che posso consigliarvi variante 2 io comunque vi ringrazio se questo video vi fosse piaciuto vi chiedo di mettere un like lasciarmi qualche commento e spero di vedervi in un prossimo video un bacio ciao ed eccoci alla variante numero 3 questa pietrina qua e soprattutto questo mazzo allora variante 3 intanto se sei tra le persone che sono già passate dal mio canale io vi dico bentornate bentrovati se invece siete nuovi io vi do il benvenuto vi ringrazio per essere passati di qui se dovesse piacervi quello che dico e come lo dico vi chiedo di iscrivervi al canale di mettere un like o lasciarmi anche commenti che mi fanno sempre piacere e direi di passare appunto ad analizzare un po' come è la situazione se questa storia era veramente finita se c'è ancora una possibilità tra voi due allora mettiamo qui la vostra variante il testimone però questo è il mazzo che avete scelto allora variante 3 che energie ci sono in questo momento tra voi e la persona a cui state pensando variante 3 che energie ci sono in questo momento tra due mondi ok io dico sempre voglio prima vedere un po' tutte le carte per avere un'idea però però già questa carta mi dice che qui o è un momento di forte transizione quindi di un di una decisione importante da prendere per qualcuno di voi o che si sta passando da una situazione a un'altra vediamo indaghiamo che energia avete voi in questo momento allora variante 3 in che energia sei in questo momento rispetto a questa situazione in che energia sei così almeno vedi se ti ritrovi in questa variante in che energia sei variante numero 3 tu stai così tu sei veramente preoccupato 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 io parlo al femminile per comodità però vi prego di girare l'energia a vostro favore allora sei preoccupata c'è qualcosa che ti angoscia rispetto a questa situazione per alcuni di voi può esserci anche un senso di colpa fortissimo fatto sta che non stai per niente bene in questo momento ti stai questo vuole uscire continuamente teniamone conto ti stai molto o dando delle colpe rispetto a questa situazione o ti stai molto preoccupando c'è qualcosa che veramente questa è la carta delle ansie delle preoccupazioni qualcosa che ti toglie il sonno letteralmente vediamo l'altra persona in che energia è variante 3 in che energia è l'altra persona l'altra persona è nell'energia del ribelle è come se questa persona improvvisamente si sia ribellato un po' a un qualcosa rispetto alla vostra relazione quello è anche l'imperatore nei tarocchi è una persona che probabilmente forse anche in maniera un po' irruente ha preso delle decisioni vediamo un po' le energie fra voi due che energie ci sono fra chi ha scelto la variante numero 3 e la persona a cui stanno pensando in questo momento possibilità beh però diciamo che entrambi è come se comunque sentiste che non è proprio chiusa questa storia ok solo che ci sono delle dinamiche abbastanza pesanti ci sono state recentemente fra di voi vorrei capire questo tra due mondi ancora non mi è chiaro magari voi che guardate già lo sapete tra due mondi due di bastoni può essere anche che c'è una scelta veramente qua da fare da prendere una scelta molto importante però che magari alla quale lui si è ribellato andiamo un po' cosa ci dicono gli angeli del cuore allora che energie ci sono tra che scelto la variante tra la persona a cui stanno pensando dipendenza reciproca situazioni di dipendenza stanno condizionando la tua vita sentimentale qui banalmente c'è proprio una forte dipendenza fra voi due quindi non riuscire a comunque farà meno l'uno dell'altro mi sembra una carta però negativa è brutto però è una è una dipendenza che a tratti può essere malsana magari fra voi due andiamo un po' chiediamo ai tarocchi ancora con queste possibilità è proprio come se si dovesse fare una scelta io ho forte questa sensazione che qui c'era da prendere una decisione importante e che lui si sia improvvisamente ribellato l'altra persona andiamo un po' questa storia è davvero finita o ci sono ancora delle possibilità per questa relazione variante tra principessa di denari sarebbe il fante di denari quattro di coppe regina di spade fante fante di coppe giustizia regina di bastoni torre caspita da qui mi arrivano più messaggi allora intanto l'energia di fondo mazzo la torre è proprio come se qui fosse corollato veramente tutta una serie di certezze che aveva questa relazione è come se fosse anche venuto fuori un qualcosa che ha completamente destabilizzato le certezze le le basi su cui erano fondate su cui era fondata questa relazione con questo fante di denari e questo quattro di coppe è come se questa relazione fosse arrivata a un punto di di apatia mi viene da dire di noia di mancanza di stimoli io non escludo che con questa regina di spade con questa regina di bastoni io credo che qui sia proprio entrato in scena una un'altra donna che qui si è insinuata un'altra una terza persona in questa relazione e che probabilmente tu l'hai scoperto è venuto fuori questa cosa si è scoperta e quindi probabilmente sei anche entrata nell'energia di chi è iniziato a darsi anche delle colpe rispetto a questa relazione io vedo che in passato già probabilmente avete riprovato a ricucire questo rapporto perché magari è un po' di tempo che andava avanti ma senza grandi risultati ecco vedo che con la giustizia sotto il quattro di coppe è un po' come se si cercasse costantemente di riportare in equilibrio questa relazione ma ci sono stati degli ostacoli se qui non c'è una una terza persona e quindi comunque tu che stai guardando lo sai perché qui l'hai scoperto è abbastanza evidente se non è entrata una terza persona probabilmente qui si è insinuata una donna in questa relazione che comunque potrebbe essere banalmente anche una madre una figura importante oppure ancora non lo escludo questa persona con cui era in relazione era impegnata era impegnata e non ha mai preso una decisione non ha mai preso tra due mondi potrebbe voler dire anche questo che questa persona non abbia mai fatto una scelta si sia sempre tenuto una seconda possibilità ma non abbia mai deciso e quindi probabilmente in questo momento è come se tu gli avessi dimostrato la tua insoddisfazione è come se gli avessi detto dovresti scegliere probabilmente magari ti senti anche in colpa questa cosa e da qui è crollato tutto perché questa persona non ha preso una decisione lui con questa energia del ribelle che è appunto l'imperatore è come se avesse detto la situazione è questa tu lo sapevi fin dall'inizio questa potrebbe essere anche un'altra opzione qui insomma le cose sono varie fatto sta che c'è stata veramente l'intromissione di una persona e se non è l'intromissione di una persona è perché tu sei la relazione extra e quindi l'ostacolo più grande è l'altra persona dalla quale io credo che questa persona non abbia voluto ancora non si vuole separare ma più che altro perché è un po' come se la temesse è un po' un'energia tosta non escludo che qua ci sono anche dei figli di mezzo se è una relazione extra e che quindi le cose le cose in ballo le cose da perdere sarebbero veramente troppe quindi questo due mondi potrebbe voler dire anche questo una scelta che questa persona non ha non ha fatto e tu magari ti sei un po' stancata e abbia iniziato a fare delle richieste sentendoti anche in colpa e questo questo tuo questo tuo stato d'animo che un po' mi preoccupa perché ti ti vedo veramente afflitta appunto afflitta è come se ti sentissi in colpa rispetto alla rottura che c'è stata fra di voi perché magari hai sollevato un quello che sentivi ok questo quattro di coppa mi dice che questa relazione non era giusta ai tuoi occhi non era più equilibrata probabilmente proprio perché questa persona è impegnata e quest'altra la compagna ufficiale il compagno ufficiale è un un ostacolo veramente grande qui c'è una dipendenza una dipendenza importante rispetto all'altra relazione perché possono esserci anche dei figli quindi vedo che è un po' come se tu avessi detto hai qualche intenzione con Marcia giustamente mi viene da dire no? e qui si è scoppiato un po' tutto il casino vediamo un po' se questa storia è veramente finita o se ci sono ancora delle possibilità perché ha scelto la variante 3 comunque qui se non è una persona impegnata qualcuno si è entromesso pesantemente in questa relazione è come se questa persona dovesse fare una scelta e non l'ha fatta o ha scelto la cosa più giusta secondo secondo questa persona tralasciando un po' le tue emozioni quello che tu veramente meriti andiamo un po' questa storia è finita c'è un'altra possibilità perché ha scelto la variante tra 5 di denari 7 di bastoni un re di denari la luna la papessa l'imperatore mamma quanta gente in questa storia può essere anche che anche tu sia impegnata fatto sta che io vedo proprio ho proprio forte la sensazione che qui la vostra fosse una relazione nascosta che la vostra fosse una relazione nascosta che che a tratti vi siete sentite escluse dalla vita di questa persona è come se comunque avesse sempre messo una barriera rispetto a la sua vita con la persona ufficiale e la è la vostra relazione che abbia sempre a un certo punto alzato no come per difendere comunque qui fortissima la sensazione che la vostra è una relazione nascosta ripeto non escludo che anche voi possiate essere impegnati fatto sta che se questa storia è finita io al momento vedo che i problemi sono veramente tantissimi in questa relazione non penso sia finita perché comunque c'è una forte attrazione fra di voi ma gli ostacoli qui sono veramente tanti qui vedo difficoltà a far decollare questa relazione ma perché qui penso che anche voi stiate vivendo una situazione ufficiale con qualcun altro e probabilmente anche voi i sensi di colpa magari sono questi i vostri sensi di colpa perché anche voi probabilmente state facendo del male a qualcuno che avete a fianco per stare con questa persona io qua vedo un affollamento allora non è finita io non mi sento di dirvi che è finita io sento che comunque fra di voi c'è una forte emozione c'è il sentimento ma è veramente tutto molto difficile da gestire perché dovete conciliare due vite due mondi le energie qua mi dicono che al momento la situazione è troppo pericolosa ok è troppo pericolosa e che quindi vedo energie molto sulla difensiva quindi al momento vedo che la situazione non cambierà moltissimo ma anche perché secondo me anche voi vi siete messe in una situazione di attesa perché probabilmente anche voi dovete capire un po' di cose dentro di voi magari questi sensi di colpa sono dovuti anche a questo eccomi qui scusatemi ma nel frattempo si è scaricato completamente il cellulare non mi ero resa conto sono dovuta correre i ripari e attaccarlo al volo allora dicevo dunque io qui vedo un po' troppo affollamento ho come la sensazione che probabilmente qualcuno di voi due sia stato anche scoperto in qualche modo perché qui ho proprio forte la sensazione che si parli di una relazione extra e che si è saltato fuori qualcosa che qualcuno vi abbia scoperti e quindi vedo mettersi molto sulla difensiva per cercare di riparare la situazione ufficiale perché questa persona secondo me al momento non se la sente di rinunciare quindi probabilmente si è messo in una sorta di difensiva proprio perché si è sentito sotto attacco ok probabilmente perché appunto la persona ufficiale ha sospettato qualcosa o addirittura ha scoperto e quindi questa persona è corso ai ripari in questo momento vedo che le energie sono queste di di chiusura da questo punto di vista proprio perché si vuole cercare di salvare il salvabile quindi non vedo al momento grandi sviluppi vedo che probabilmente questa persona preferisce salvaguardare quello che ha in modo magari anche molto materialista perché re di denari cinque di denari è proprio che questa persona ha paura di perdere economicamente no la sua stabilità con la situazione ufficiale e che quindi abbia deciso di chiudere con voi al momento voi adesso siete in questa situazione di attesa e e quindi state aspettando probabilmente che questa persona si faccia sentire per dirvi appunto che cosa che cosa ha deciso di fare però ripeto al momento non vedo grandi mosse da parte dell'altra persona proprio perché ha paura di perdere quello che ha quindi il consiglio che posso darvi è consiglio insomma in questi casi è un po' difficile mi rendo conto ma non potete fare molto voi al momento siete ancora la persona che vuole tenere segreta nascosta non se la sente ancora di di rinunciare a tutto anzi ha molta paura di perdere quello che ha e quindi è corso ai ripari ok sarà così ancora per un po' io da qui a qualche mese ancora non vedo grandi cambiamenti ma vedo un'energia di chiusura più che altro proprio davvero per paura di di perdere ma secondo me anche soprattutto a livello economico questa persona probabilmente ha molto da perdere e allora per un bel po' vedo che rimane ancora in questa posizione cercherà di rigare dritto per salvare l'altra situazione va bene variante 3 queste carte mi hanno detto tutto io spero di esservi stata utile anche se magari il messaggio non è proprio quello che volevate sentirvi dire io però dico sempre che sono energie e che possono cambiare le situazioni possono cambiare al momento questa persona non se la sente ok di rischiare tutto di perdere tutto di fare questo passaggio tra un mondo e l'altro perché probabilmente ha veramente tanto da perdere io vi ringrazio se il video vi è piaciuto mettete un like lasciate un commento se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi al canale spero di vedervi in un prossimo video e vi mando un grande bacio ciao ciao